Signore e signori, buongiorno, nel comandante che parla, volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo volo i da Airways 60 a 608 diretto a New York, aeroporto di Cieschi. Il tempo di volo oggi sarà di 9 ore e 45 minuti e la nostra quota di crociera sarà di 39.100. Le condizioni meteorologiche sono, come lungo tutta la rotta, così a destinazione e riportate un cielo sereno. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una precevole permanenza a bordo e vi ricordo che l'equivaggio è a vostra disposizione. Buon volo!